Io sto con Save the Dogs perché ogni anno salva 2000 cani in Romania, un paese dove ogni giorno vengono uccisi centinaia di randaggi. L'associazione fa di tutto per soccorrere i cani feriti e malati, ma serve una nuova struttura. Io sostengo la costruzione della nuova clinica veterinaria di Save the Dogs. Aiutaci! Oh! Oh! Oh!